Un'intera frazione Ceciliano è in festa per il Calcet, ci sono una serie di iniziative, il 25 il mercatino e poi altri appuntamenti. Sì, per il terzo anno consecutivo praticamente Ceciliano ha organizzato la tre giorni, la cremesse che dura praticamente il giovedì 25 la liberazione, il ponte della solidarietà, liberazione venerdì e sabato sera. Giovedì chiaramente il mercatino solito con le bancherelle, poi ci saranno i ragazzi nello stand della segreteria, i ragazzi delle scuole elementari che sono stati sensibilizzati praticamente come tutti gli anni, esporranno i loro disegni e i loro temi e poi il pomeriggio sarà allietato dalla musica del maestro Enzo Scartoni. Il venerdì ci sarà la premiazione dei ragazzi nei locali del giardino del primo o poi ristorante qui a Ceciliano e verranno praticamente, ci sarà una scenetta anche dei ragazzi delle scuole elementari, una piccola commedia, una mini commedia e poi una esibizione della danza Namabay Dance e poi la serata finale terminerà con i fratelli Mazzi, Franco e Marcelli, grazie ai quali praticamente, dove si svolgerà davanti ai locali di questa ditta CDAS, si svolgerà praticamente tutto il mercatino, grazie alla presenza e grazie alla contribuzione generosa di tutti i loro mezzi, tutte le loro attrezzature, dei fratelli Mazzi, terminerà in bellezza una bella cena luculliana a base di pesce nei locali accoglienti dei Mazzi, Franco e Marcello che sono qui presenti. Non poteva essere altrimenti, visto che ci troviamo proprio qui davanti. Ma credo che sia una cosa bellissima, anzi io invito la gente a partecipare perché credo che in questi momenti sia importantissimo partecipare a queste iniziative che aiutano praticamente tutte le associazioni che lavorano nel volontariato e che portano beneficio alle nostre strutture. La cena sarà a base di pesce? Sì, solo pesce, noi cuciniamo solo pesce, comunque se qualcuno non mangerà il pesce ci arrangeremo, qualcos'altro, comunque soprattutto è pesce. È una bella iniziativa, coinvolge un po' tutti, anche Ombretta e Rossella di Ombre Rosse sono date molto da fare, quindi è un intero paese che si muove. Sì, credo che per queste iniziative bisogna contribuire il più possibile perché purtroppo tocca sempre un po' tutti, speriamo mai. Speriamo mai però. Però dove ci guardiamo intorno vediamo che purtroppo c'è sempre qualcosa. Ecco, ci sono altri ringraziamenti? Ringraziamenti? Sì, Calcite a Cegliano e al Femminile, praticamente abbiamo un po' di donne, un po' che erdassi, Rossella, Cristina, Francesca e Ombretta che sono le artefici di questa iniziativa. Grazie a loro praticamente se per il terzo anno consecutivo possiamo realizzare questo bel mercatino e auguriamoci realizzare anche il record di incasso che lo scorso anno è stato di 27.600 euro. Grazie a tutti.